ciao ragazzi benvenuti dunque in questo nuovo fifa pronostico juventus inter allora prima di tutto cominciamo a cercare di capire quale formazione metterà in campo mister allegri credo che questa sia la formazione o meglio questo sia il modulo per quanto riguarda gli uomini in campo sicuramente non ci sarà che dira e credo che l'uomo da far giocare sarà bentancur penso che sarà questa la formazione che allegri mettere in campo con ovviamente quadrado costa eccetera 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 pronti ad entrare anzi secondo me sono indeciso secondo me farà riposare matuidi e giocherà con pianic bentancur e quadrado secondo me sarà questa infatti metterò questa tanto per a sicuramente non ci sarà alexandro quindi credo che avrà un'altra chance mattia de sciglio perfetto ovviamente giocherà ronaldo manzukic di bala insomma credo che questa sia la formazione a parte ovviamente da cambiare manzukic con ronaldo e via dunque iniziamo divise classiche ovviamente ed è iniziamo questa partita o meglio iniziamo cioè cioè iniziamo una parola grossa nel senso ok ed è iniziato dunque il fifa pronostico tra juventus e inter la fiorentina ha portato bene perché il fifa pronostico è finito 4 a 0 e avevo detto è troppo troppo ottimistico in realtà poi la partita è finita 3 a 0 quindi diciamo è stato abbastanza realistico ho sbagliato l'orario però fa niente chi se ne frega ho ridotto a mettere un orario più scuro visto che si giocherà venerdì sera buona giocare di cansello che sarà il grande ex della partita quadrado appoggia bene ventancur ancora ventancur dentro non è male il tiro un poteva rindirizzare subito il palo alla sinistra di andanovic 6 minuti prima occasione juve tutta la partita per i fassi però che occasione non deve lasciarsi condizionato forte la juventus non so se questa settimana riuscirò a fare la classica live come contro la fiorentina su twitch non lo escludo però sapete che è molto corta la settimana giocando di venerdì attenzione parola in mezzo buono non ci credo clamuroso clamuroso non ci credo manco io di come non sia entrata questa palla questa era un'occasione giusta dicevo appunto della live su twitch che molto probabilmente non la farò questa settimana perché il tempo è il tempo passa e non riesco non riesco a stargli dietro e col fatto che giochi di venerdì e porti via un po di a bella giocata quadrato no stiamo sembrando veramente la juve reale c'è che sbaglia 6.500 palle gol i padroni di casa vattene il miglior attacco del campionato fin qui hanno dato spettacolo davanti vedremo se anche oggi sapranno regalarci dei gol vediamo qua adesso la manovra di bala Ronaldo è bravo brava l'inter che chiude c'è una rimessa laterale siamo al diciottesimo risultato è di 0 a 0 quadrato canselo Ronaldo prova a tagliare lunga per manzukic lunga 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 per manzukic 20 minuti 0 a 0 ben tankur non male questa apertura per di bala di bala altra gran palla per ronaldo che la rialza stavolta bene manzukic anticipato quella palla per quadrato che gira Andanovic interessante la storia di quadrato centrocampista perché tutto sommato non sta facendo male il piede ce l'ha non deve neanche spingere a livello di velocità quindi quello che era stato sul punto forte era scattare sulla fascia ma l'età passa per tutti e quadrato ha un po' perso quella brillantezza di scatto e questo ruolo sembra avergli ridato un minimo di brutto dire utilità però sembra se riesce ad entrare in questo ruolo qua come deve entrare potrebbe avere una seconda carriera potrebbe andare avanti diversi anni nel nuovo ruolo adesso l'inter prova ad affacciarsi 31 minuti di dominio bianconero però non ha portato neanche a un gol la partita davvero è un po' come l'anno scorso la partita dell'anno scorso tra juve e inter la juve ha letteralmente dominato i nerazzurri poi al ritorno sembrava invece forse più meritata la vittoria dell'inter invece è arrivata qua la giro di bala a usti palla fuori di un niente e finire alle spalle del portiere no no si non è uscita di parecchio eh in via qualcuno qui in tribuna gridava già il gol Icardi inter che spinge a caccia del gol c'è spazio per andare Asamoah cross in mezzo chiaramente l'inter che ha Icardi che è un killer dell'area di rigore e non parlo solo del videogioco ma parlerò anche proprio del anche della realtà con Icardi bisognerà stare molto attenti perché ogni tiro dell'inter ogni azione dell'inter potrebbe essere pericolosa la mette in mezzo Pjanic caccia d'angolo battuto malissimo poi il pallone però rimane lì Tancur la palla ci abbiamo ancora noi con una buona occasione con Ronaldo Pjanic prova l'inserimento Andanovic ancora in uscita Andanovic fuori gioco fuori gioco dell'inter è in posizione di offside De Sciglio Pjanic Pjanic quadrato cancello sbaglia il passaggio recupero passaggio recuperiamo palla Ronaldo prova l'inserimento di Mandzukic però non stava seguendo l'azione Asamoah Perisic Prova un tiro di Cagli palla fuori e finisce primo tempo 0 a 0 nonostante due o tre occasioni non indifferenti un dominio abbastanza netto è iniziata il secondo tempo è iniziato da pochissimo fin qui abbiamo assistito non ho effettuato cambi ma mi sa che tra poco perlomeno Douglas lo metterò dentro appena vedrò l'inter un pochino più stanca Casamoah su scusate Nainggolan su Mandzukic ma la palla ce l'ha quadrato Bentancur Poi la ribattuta bella azione Pizzone Versalico l'Inter spinge cross in mezzo è un po' lungo arriva comunque però rimessa da fondo l'ora abbastanza evidente qua devi assolutamente buttarla di prima in mezzo invece cercando il controllo la palla è stata persa bravo Cancelo non dar via il marcatore Cancelo Cancelo prova una magia ma non funziona poi il rimpallo attenzione crea il pallone per Mandzukic nel rimpallo c'ha ragione ancora l'Inter che ne esce fuori ancora sta crescendo l'Inter sta facendo fatica la Juve in questo secondo tempo Icardi bella apertura Perisic ottima chiusura il pallone arriva per Nengolan Chiellini il pallone rimane lì alla fine rimbalza da Szczesny che non ci perde neanche un anno secondo a darla a De Sciglio per Bentancur terzata Pjanic ancora Nengolan su di lui la palla è persa poi bravo a conquistarla proprio Milan e Pjanic quadrado ancora Nengolan praticamente addosso Bentancur Cristiano Ronaldo Ronaldo grande inserimento per Bentancur attenzione a Bentancur che entra in aria la mette in mezzo Dybala palo che occasione poi Dybala recupera palla su Samoa Dybala ancora Dybala Zolatino Andanovic Lampi Lampi Juve adesso il pallone in mezzo Chiellini anticipato anticipato anche nettamente allora De Sciglio vuole di nuovo Pjanic Bentancur preferisce Juan Quadrado Quadrado esagera col dribbling Quadrado riesce comunque a darla ancora a Bentancur Bentancur può rimetterla in mezzo non è male l'idea Cresciuta la Juve ma ancora zero i gol quel palo clamoroso di Dybala due pali perché anche primo tempo all'occasione colossale c'è anche stato un palo qua ottima chiusura poteva partire l'Inter in contropiede e far molto male fallo per la Juve e sostituzione che a questo punto pare inevitabile fuori Mandzukic dentro Dagras Kosta e dentro Matuidi fuori Quadrado Embrecian l'ho portato in panchina non a caso perché tornerà in panchina in questo in questo weekend fortunatamente Bentancur Douglas prova la sterzata Douglas 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 fino in fondo Douglas lascia attenzione rimessa dal fondo ma il dubbio insomma eh se la rigore è quello su Manolas di Cardi poteva essere il rigore anche questo eh se continuano così rischiano di far chiudere lo stadio per disturbo alla quiete pubblica Brozovic palla nuovamente in possesso Bentancur Pjanic ottima questa azione della Juve che va incredibile palla dentro per Ronaldo 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 non ci credo azione devastante bellissima Ronaldo che sbaglia davanti ad Ananovic in maniera abbastanza comica occhio all'Inter occhio all'Inter occhio all'Inter che avanza con De Sciglio che si perde Asamu e la palla rigore perché? perché? perché rigore? è rosso dal Bonucci per quel motivo? è impazzito è impazzito è impazzito rivediamo cos'è? ragazzi è impazzito veramente il gioco e il car di segna il car di segna incredibile una vergogna veramente ragazzi qua eh ma cosa ha fischiato? riusciato Ronaldo riesce entrare in area di rigore fermato e questo non è fallo ovviamente bah rimessa mia Matuidi Di Bala ancora e palla persa e palla persa fuori gioco fuori gioco fuori gioco fuori gioco eh Pjanic Pjanic rientra ottima palla Rodrigo Bentancur 1 a 1 ha rischiato di sbagliarlo ma intanto 1 a 1 al novantesimo nel finale si accende la partita hanno pareggiato dunque 1 a 1 attenzione adesso ancora Balde il palo rimane lì occhio che qua mi fischia un altro rigore eh Matuidi vediamo se c'è tempo per ultimazione non c'è finisce 1 a 1 e dunque il mio FIFA pronostico termina così 1 a 1 sono riuscito a ribaldirlo proprio all'ultimo secondo speriamo che non vada come al FIFA pronostico anche perché vuol dire che ci saranno code polemiche importanti io vi saluto ragazzi e vi do appuntamento con i prossimi video del canale ciao